113 sindaci, 14 organizzazioni vitivinicole e 34 cantine sociali, le loro richieste sono arrivate oggi in Commissione Agricoltura, convocata per parlare di danni dell'aperonospora. Alla Regione fanno diverse richieste, quella di velocizzare gli strumenti programmati pari a circa 9,8 milioni per prestiti agevolati, ma anche l'abbattimento dei tassi di interesse sui muto in essere per aiuti a fondo perduto alle aziende che hanno subito danni, di ricercare nuovi fondi regionali, ma anche di portare le richieste sui tavoli nazionali. Innanzitutto di velocizzare i procedimenti in atto, perché la Regione ha stanziato dei fondi, circa 9,8 milioni di euro, di fare presto nel concedere prestito ai 232 agricoltori beneficiari e di portare avanti le altre due iniziative che sono contributi in conto interesse a fondo perduto. Di trovare eventualmente nuove risorse, ma qui ci speriamo poco, vista la situazione della sanità in Regione, ma soprattutto ciò che chiediamo è di rappresentare il caso Abruzzo a livello nazionale. Chiediamo che il Governo nazionale trovi, e lo può trovare, minimo 80 milioni di euro. L'Abruzzo ha subito da solo a circa il 30% dei danni complessivi registrati dalle otto regioni italiane che hanno ottenuto lo stato di calamità. Dal canto su la Regione però ha fatto quello che ha potuto, ma continuerà a lavorare, ha affermato l'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente, che ha spiegato che ci saranno due emendamenti per velocizzare le procedure, ma che la questione è già l'attenzione del Governo nazionale con dei percorsi indicati proprio dalla Regione. Oggi porteremo due emendamenti che serviranno proprio per velocizzare e per rendere più attuali e puntuali gli interventi da fare. In questi giorni stanno pagando il piccolo prestito che era la misura che avevamo già costruita. Poi c'è la parte legata ai ristori che metteremo a disposizione con una semplificazione passando direttamente per AGEA, per il bando che già è stato fatto e quindi portiamo un emendamento in Consiglio regionale proprio a modificare questo. E poi c'è un altro provvedimento che è concordato con l'associazione di categorie, con tutto il sistema e il mondo del vino, che è una cosa che loro chiedono, è quello dell'abbattimento di alcuni tassi di interesse legati a quelli che sono i muti in essere. Argomento caldo in Consiglio oggi, la legge urbanistica. In Consiglio il progetto di legge sulla leale collaborazione tra Regione Abruzza e Governo, norma finalizzata a scongiurare l'impugnativa delle leggi regionali dinanzi alla Corte Costituzionale, ponendo rimedio ai profili di legittimità sollevati dal Consiglio dei Ministri. La Regione per le opposizioni sull'urbanistica ha fatto orecchie da mercante sino a quando non è arrivato l'intervento del Governo che ha impugnato la legge alla Corte Costituzionale. La Regione ha posto rimedio con due articoli, ma per Blasioli ci sono problemi anche sul piano casa. Troppe le proroghe. È arrivata l'anno scorso, purtroppo questa regge non è stata per nulla condivisa con il Ministero. C'è una forte critica su questo, soprattutto per l'aspetto che non riguarda l'armonizzazione di alcune norme premiali delle volumetrie con i piani territoriali paesaggistici che dovevano essere espressamente richiamati e che deve essere approvato dalla Regione Abruzzo. Questo è un passaggio molto importante.